Al Palazzo della Cultura Roviano Principessa Pignatelli apriremo in canti di Sicilia con Anna Salsetta e il maestro Francesco Greco al pianoforte. Io reciterò alcuni versi di Martoglio, di Sapienza, di Buttitta, di Balistreri. Invitiamo la città perché questo evento naturalmente non è un evento che è alla portata di tutti i giorni. È veramente importante perché ricordiamo le nostre radici e come sapete chi non conosce il proprio passato non può affrontare il proprio presente. Da quando siamo nati abbiamo subito cercato di ingentrare tutte le nostre azioni proprio per valorizzare ciò che sono le risorse nel nostro territorio. Ovviamente in questo caso si parla di risorse conoscenze e cultura, quindi si parla di risorse culturali. In Canni di Sicilia appunto nasce dalla volontà di riprendere e ridare luce a nostri artisti, sia poeti che cantautori siciliani di fama nazionale. Molti hanno anche fatto alcune colonne sonore di film famosi in tutto il mondo e quindi questo è un modo per fare arte. Invitiamo tutta la cittadinanza a venire a trovarci lì domani alle 18.30 al Palazzo Principessa Pignatelli proprio per vedere intanto lo spettacolo ed eventualmente per chi fosse interessato ad aderire alla nostra associazione per rimanere aggiornati su tutti gli eventi che avremo in programma per il 2017. Grazie Grazie Grazie